della chiusura della manifestazione, i ragazzi si assietano perché vogliono, guardate quando una marea di studenti, il nostro governatore, i nostri amici, Neime, allora Neime, Neime Neime, 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 Subhash, Abashir, Neime, Muhammad Raffi, ok, Neime, Your name, Name, My name is Percelli, Percelli, Benazir, Benazir, Your name? Beghezzi, Alberto, Benazir, 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 Benazir,it One Ce neылam, Benazir, 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 Vele,內, Benazir, 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 Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao ragazzi. Con la festante. Ciao, ciao. Ciao. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.